ciao ragazzi e benvenuti sul canale games on patch e oggi vi voglio fare vedere come cambiare far in nuova stagione come sappiamo il far adesso ha un grande vinculo verso 30 40 metri non si può sparare e oggi voglio fare vedere un settaggio come modificarlo il silenziatore agency adesso è inutile noi lo togliamo adesso per avere un controllo verticale possiamo mettere la fiamma schermatura di fiamma 5.56 per la canna adesso un sacco di persone stavano parlando di prendere o penultima o la terza io preferisco di metterla penultima come la sottocana adesso tutti hanno scelto di mettere impugnatura field agency la gente caricatore rapido 90 colpi e ho visto che un sacco di persone adesso invece di questo mettono il questo è il settaggio per il far invece per il mag 10 calcio di combattimento dopo l'ottica mi stop reflex peccatore rapido 53 colpi impugnatura strike grazie a tutti questa è stata la grazie a tutti i ho trovato bisogna l'ottica mi hai raggiunto dal far e mac 10 ma c'è 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 Grazie a tutti